Welcome back to another fabulous puntata di B-Square Gaming come al solito qui il vostro fry e forse se riesco a votare riesco a votare l'unico che voterà Lakeside perchè la miniera di carbone mi è sempre stata vagamente sul cazzo va bene ragazzi allora come al solito a me non resta che ricordarvi di droppare like guardare Twitch, guardare Twitter, Facebook, tutto, tutto siamo ovunque, siamo ovunque, non siamo soltanto su quel Pinterest come cazzo si chiamano gli altri, quelle cose fotografiche lo sapete, tra l'altro a me piace anche fare la fotografia le fotografie mi piace anche fare le fotografie come vedete oggi parlo benissimo comunque volevo dirvi è la stessa sessione di registrazione quindi cosa dovrebbe suggerirvi il fatto che sto praticamente sussurrando al microfono, dovrebbe suggerirvi che sto registrando di notte pur di darvi dei video da gustarvi pienamente nel corso della programmazione estiva quindi fa parte di quei video che almeno non dico una volta alla settimana ma perché non so se ce la farò però mi piacerebbe farvi vedere almeno con cadenza settimanale lo so è difficile cercheremo di fare tutta questa programmazione estiva però eccoci qua riferisce, riferisce, ci siamo va bene dai ragazzi come dice Gianni Morandi un abbraccio proviamo a girare di qua a vedere se già ecco lei, ecco qui tra l'altro queste sono le mappe su cui non è che mi gusti più di tanto che come cazzo fanno a essere già qui porcaccia puttana Eva impestata ladra ehi una luce cazzo mi hanno steso aspetta, fatti sistemare no merda, merda, merda ci hanno fatto il giro bravi loro eh no, questo nulla da dire un inizio più di merda così penso di non averlo mai avuto storicamente però a noi piace così se non succhiamo all'inizio non godiamo è troppo facile, non ci piace e poi fu così che fallirono in maniera miserrema perché poi è sempre così uno dice ma no, non mi piacerebbe così facile però eh, sti cazzi però però, però, però ce la faremo ecco sono già qui ora mi mi vuoi spiegare come mai sono già qui? sono già qui pazzesco come cazzo fanno? ma è una guerra di logoramento questi qua vi piace la mia maschera da ecco poi tra l'altro ci girano e siamo fottuti senti io ci provo e vaffanculo se fallisco come diceva Maurizio Costanzo tu ci devi provare sempre sempre figa figa mi ha fatto venire un colpo sto maledetto monello coprimi sti cazzi no coprimi tu allora vediamo un po' non me la lo sapevo cazzo lo sapevo sono ferito ma porcaccia puttana Eva zoccola impestata ladra ma ma se c'era quel cazzone perché non l'ha fatto fuori lui? allora cerchiamo cerchiamo di morire in santa pace ok cioè ma porcaccia puttana ma se quello lì vede qualcuno ma perché non fa qualcosa non lo marchia no niente lui gli piace così no? ma come massimo cazzo come massimo porcaccia la misera è uno anche col microfono adesso ci spaccherà le palle per ragazzi stiamo subendo come non mai eh devo dire bravi bravi noi tutta bravura sono già là io li ho visti che palle su coprimi fatto andiamo andiamo tanto io lo so che sono là sopra questi stronzi caccia puttana questa è una nostra rischiosissima non dovrei neanche farla in tutta questa a culo ragazzi che cazzo di fucile c'ha sto bastardo balordo che cazzo di fucile c'ha dai oh ma che cazzo di fucile c'ha ma io non lo so una pistola ma io non ci credo che una pistola c'è ma vuole coprimi le spalle coprimi coprimi le spalle ma dove sono dov'è la nostra cassetta andiamo proteggi ti pareva la posizione più stronza non potevano farla ecco e naturalmente loro che non sono idioti hanno deciso di passare dal lato oh no 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 ma porcaccia puttana oh no no non me l'ha data perché porca puttana eva c'è due colpi mentre cadevo vabbè cazzo è sempre solito che cazzo di fucile c'ha si c'ha c'haone proprio come mi insegna Delezza c'haone questa partita cioè se quella prima è durata 18 minuti questa qua durerà tipo due minuti ecco bravo proprio poi moriamo come una stronza per la serie senti io ci provo ma si è lì è che ci sarà quello a difesa figurati cazzo fanculo cazzo vediamo se qua c'è qualche bomba da far esplodere oh l'hanno praticamente aperta e vabbè fallimento epico e anche qui ci sta un fallimento epico come vedete insomma ogni partita un po' la cassetta ciao ciao vabbè vabbè eravamo anche due ragazzi cazzo pretendi infatti ma poi la gente è vile quando vede che incomincia a perdere tutti che abbandonano e fan culo vabbè ragazzi al prossimo video ciao Grazie.